Un po' di ghiaccio, sì! Inizia il secondo tempo tra Mazzemba e Chelsea. 4-2 per il Chelsea al termine del primo tempo. 5-2 per il Chelsea al termine del primo tempo. 5-2 per il Chelsea al termine del primo tempo. 5-2 per il Chelsea al termine del primo tempo. 5-2 per il Chelsea al termine del primo tempo. Mi ha detto, ti faccio iniziare, dieci, un quarto d'ora in ritardo. Considera che l'arbitro aveva un'altra partita alle undici in un altro campo e ci ha fatto andare un altro. Pesi bassi? Dai! Pesi bassi! Non male montano. Non farà niente! Bravo, bravo! 3-2! 3-2! Chi mi dà il cambio? 3 minuti. L'ho fatto fare oggi? Se ne prega. 5-2, Giacalone. 5-2. 5-2 è sano. Giocare così. Esci! Mi permesso. Palla sempre. In diagonale. Va bene. Raga, ci svegliamo o ci andiamo? Non l'ho capito. Passiamo questo movimento per un motivo. Ora, ora, Leo. Ora, Leo. Ora che giro. Bravo, Leo. Mi permesso. E' uno. Non è un pallone, però non dopo tre anni. Scusa, scusa. … Due avanti non mi devono stare. Raga, gli mi dà il cambio. Due traivano. Due avanti non mi devono stare. Troppo luna. Due avanti. perché così l'azione è molto più brava secondo due tocchi è meglio che uno saliamo 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 vai vai parla in italiano raga chi mi dà il cambio non tutti assieme perché non ho gioco solo io e voi puoi riprendere al posto puoi riprendere al posto cambio solo è chiaro che penso da queste cose c'è da parte degli avanti il contromovimento spalla lì spado il movimento il contro a centro me lo prendo lo spazio lo voglio me lo prendo non posso respirare mi devi stare con me palla qui fonda di nuovo proteggi il contro il contro l'internet l'interno 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 ma l'interno l'interno c'è un acqua qua sotto malattia non penso che andiamo a me è un po' più rischioso è un po' più rischioso per il mio livello di situazione bisogna di perdere pallone però è una sorta abbattuta un gol si mettono stress per esempio lei che è la vostra compagna dai dai lascia la pallone dai dai a morire mi tiene da questa pallone piano piano grazie a tutti un altro, un altro in maniera vabbè a destra, a destra ma basta, stringi stringi altri quattro ma Daniele lo fa che lo metto là perché tu è come tu un funk, un progetto tügbe ehi he oh policy he Oh! Ciao, ciao! Vai lì! Tu, che c'è il barone, cazzo! Tu, prendiamo la palla, cazzo! Non facciamo la palla, cazzo! Ma tenete il gioco! Dai, gioca! Gioca, gioca! Gioca, ministro! Visto! Facili! Troppo presto, regina, sentiata l'avversario che è già... Rimane! In mezzo, come c'è? Non facciamo la palla! Non facciamo la palla! Vaci, 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 vaci! Non facciamo la palla, vaci, vaci! E, valli, vaci! No, Dani, così no! Lasci quello solo, Dani! Prova! Vuoi? Dani, hai questo, se no c'è due! Se no c'è due! Guardiamo! Non ce lo toglie più! Dai! Vieni, vieni! Oh, oh! Vai, allora! Sì! 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 Dai, dai! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Robby! Perché era Robby? Non lo so, non lo so! Vieni! Oh, hai di troppo! Ma no! No! Non mi pari era, ragazzi! Non ci pari! Non è che è proprio il avversario che fa qualche cosa stiamo facendo! Non ci pari! Prima lei prende palla, fa spinta di ridaccia, il lato è attaccato! Ha sempre detto, con questo movimento ha preso un pochettino di vantaggio sul suo avversario. Perché facciamo questo scambio? Ehi! 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 Mi hai detto minchiata? No. Ancora no? No, è finita, la fate in. Dai, poi metti la musica. Ti stai dicendo troppe parolacce, senti. Ma quanto stanno? Non ho trovato la musica perché questo viene e dice minchiata. Per questo. No, ancora non mi ha capito. No. Ah, questa è la vi capito. La musica è più facile. Sì, soprattutto il chapelle. Ah beh, tu che metti il chapelle? Che chapelle? Non c'è, ho cercato la musica diabolica. Non esiste, proprio non me la fa mettere. Mi fa mettere solo la musica classica. Esci, esci! Bravo Ciccio, bravissimo! Grazie, bravissimo Ciccio! Non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è. Ehi, uno. La testa è il tuo filo. Guarda, è il tuo filo. Guarda, è il tuo filo. Guarda, è il tuo filo. Bravo! Ti prendo e non mi hai detto quanto stanno. Eh? Non mi hai detto quanto stanno. 5 con le due, per il blu. Lasci il guadadano. Lascia lo stare, Giovi. Quei giusto. Vedi qua però… Vedi qua per ogni impecare. Si, a sinistro. Sei una cosa male. Viene? Va bene già. Ci vuol dire? Comparai a girare cosa fa. Oggi scaglie. E ecce. Perchè Filippo prima non correva così? Perchè non mi faceva buttare il sangue, ora corre come un paolo, guarda è un cavallo Forse lo drogano Filippo prima non correva così, perchè? Terza posizione Ma signore Tempo arbitro Perchè? 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 Apposta arbitro Perchè? 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 Calma, parati! Ricomincia pure il passaporto Vai Miki, allora Miki allargati Miki allargati Vai Miki Dai Miki Come c'è questa roba? Vai Filo Arriva arriva Buona Pena controzzo Prendiamo Allora Grande farà Ancora farà Vero oggi sei generoso Si rimane Vero, l'ho notato anch'io Si confessò Diceva Davide Cosa vuoi correre di più? Io? Lo riseto veramente Infatti ho detto diceva Davide Diceva Davide Che l'è? Io, io Mentre riprendo ho notato che vado adesso Aspetta Bisogna da qua il pallone Ma non c'è il pallone Del pallone Chi ha aperto? Buongiorno Farei perdere tempo Quella E' nero Vedi come fa Vuoi trovare pulito Dove va Marino? Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Difissimo al secondo tempo Piano Ma non mi ti riferisco Stai andando a chi? Da te Naturalmente da te Ma non lo so Mentre Ma non c'è 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 Ora proviamo la pressione fa sta bene su questa casa Non è sua ma Non voglio andare a fare una giocata difensiva totale quando la gioco di tornare Da qua Da qua Non ti voglio fare giocare Non ti voglio fare giocare Capito Fermo basta giocare andiamo andiamo a cominciare sette minuti Daniele per la nostra cambia per la nostra cambia per la nostra cambia andiamo in in il in Foli che Sì, non vuole, sì. Che cosa signore? No, no, no. Venta, venta. Dove sono? Mezz'ora del ritardo, preciso. È il mezzo. Non so, aspettava peggio. Vabbè, iniziate subito. Subito fa vincere. No, vabbè. Dico le formazioni, fai riscaldare a loro. Dite subito le formazioni. Poi per me come volevo. Sto segnando la deviazione. Quella che ha sprenza dei due soppronti. Che, loro? Lì sono. Tu pensi a mezz'ora che aspetta da un soppronti? Voi vi siete cambiati troppo presto, effettivamente. non è lì. Da dove sei partito? che quando sei partito è in tutto qui? Oh, non ti, oh ti non è vittura. Che affetta. Vito! Davanti a noi. 5-3 5-3 o 6-3? 4-3 5-3 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 6-3 5-3 5-3 5-3 6-3 6-3 6-3 6-3 8-3 8-3 8-3 6-3 6-3 7-3 8-3 8-3 9-3 9-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 10-3 11-3 11-4 12-4 11-3 12-4 12-4 13-4 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.